ciao andremo a fare parte alta del nostro corpo senza attrezzi ti serve solo una sedia e prova a seguirmi senza mollare allora partiamo con le braccia sulla linea delle spalle palmi verso l'alto piccoli cerchiolini indietro dai forza seguimi giù bene le spalle allunga bene i lati del collo e lati del busto tieni le ginocchia semiflesse l'addome bene attivo cerchiolini indietro e inizia a farli diventare un po più grandi e non perdere il movimento non spanciare tieni attivo l'addome palmi verso l'alto giù le spalle respira inizia a disegnarli più grandi sempre veloci più veloci senza fare avanti e indietro e ritorna piccoli piccoli e veloci piccoli e veloci aggancia bene in gran dorsale qua sotto piccoli e veloci 4 3 2 1 e stop ora da qui invece i cerchi sono avanti avanti con i palmi verso il basso partiamo tra 5 4 morbidisco le ginocchia addome attivo giù bene le spalle aggancia bene le scapole verso il basso continua a spingere le braccia lontane piccoli diventano un pochino più grandi sempre veloci senza andare avanti e indietro con la testa giù bene le spalle allunga i lati del busto grandi veloci grandi veloci continua a distendere bene le braccia non fare la tirchia allungati bene torna a farli piccoli e veloci piccoli e veloci piccoli e veloci 9 8 resisti 7 6 5 4 addome attivo 3 2 1 e stop prossimo esercizio mi porto in plank e dalla mia plank scendo con un gomito alla volta e torno a salire commando se è troppo appoggio le ginocchia a terra pronti? pronte? via! scendo e salgo se riesci cambia tutte le volte il braccio con cui scendi porto bene il gomito sotto la spalla e per tornare porto la mano sotto la spalla attiva forte l'addome prova a non oscillare troppo se è troppo appoggio le ginocchia a terra ma non perdo l'addome non mi fermo continuo a fare il movimento 10 secondi da resisti l'ultimo l'ultimo e stop da qui ammorbidisco le ginocchia addome attivo mi porto in posizione di guardia e pugni come se stessi picchiando qualcuno che ti ha fatto veramente un torto quindi lascia andare le spalle le braccia forza forza se conosci la posizione di guardia mettiti nella tua posizione di guardia subendo il tallone dietro e fai ruotare bene il bacino ogni volta che lanci un dritto o un jab respira fuori l'aria rilassa le spalle non mollare non mollare dai forza stiamo facendo braccia quindi forza queste braccia rilassa le spalle e attive lascia andare dai dai vieni con me e stop vado a prendere la mia sedia mi porto con le dita delle mani verso il basso e palmi sulla sedia faccio scendere il busto vicino e poi scendendo le braccia pronte via attiva forte l'addome non collassare apri bene le spalle il petto i gomiti salgono dietro respira farti i piedi a terra se ne hai stendi le gambe se non ne hai tieni i piedi a terra versione facile dai che manca poco non mi mollare tre dai dai che ce ne sta un altro l'ultimo e stop ok ti porti nella posizione di plank ginocchio a terra se riesci e hai bisogno scendo piegamento ok fino in fondo non è necessario farne centomila fatti male mi serve che tu le faccia fatti bene se riesci con le gambe distese il petto tocca a terra e poi salgo se no appoggio le ginocchia altrimenti ne faccio uno con le ginocchia a terra e uno con le gambe distese se non hai il push up allora puoi mettere le mani sul rialzo sulla sedia oppure puoi tenere il bacino leggermente indietro le mani più in basso i piedi a terra quindi col petto tra le mani e torni a salire ma non mi mollare fino in fondo cerca di tenere bene l'addome attivo è l'addome che spinge forte verso l'alto le mani che spingono via il pavimento da te lontano dai l'ultimo fuori in aria salgo bravissima da qui mi porto con le mani che guardano la tua schiena sali mano destra che tocca piede sinistro e torno scendo col bacino pronti via mano sinistra piede destro scendo salgo tocco respira respira tutte le volte che passo dal centro al bacino scende sale alle alle fino in fondo dai l'ultimo e stop prossimo esercizio sempre da plank da qui porto le mani fuori e torno pronti via apro apro torno torno apro apro torno torno posso aprire anche con le dita verso l'esterno e tornare con le dita che guardano avanti sempre valgono le stesse regole se non ne ho appoggio le ginocchia a terra e tengo però l'addome super attivo e fuori torno mano mano fuori mano mano prova ad alternare vieni con me se ti è più comodo con le dita che guardano avanti va benissimo l'ultimo torno yes abbiamo l'ultimo esercizio tengo la panca rovesciata le dita guardano avanti a meno che io non abbia problemi a gomiti spalle o polsi posso rimanere qui stendo entrambe le gambe scegli la tua uno respira fa salire bene il patto verso l'alto spinge forte via il pavimento da sotto le tue mani attiva forte la parte posteriore del tuo corpo siamo a metà se senti che non ne hai più appoggia i piedi a terra ma non collassare 10 rimani con me e stop stop grazie di aver fatto allenamento con me questo video lo puoi fare altre 2-3 volte se vuoi lavorare sulle braccia oggi se ti è piaciuto lasciami un commento o un mi piace e condividilo con chi pensi possa fare piacere ciao alla prossima